Il coniglio salta oltre il tronco, il coniglio passa sotto il tronco, si tuffa dentro la sua dana e ci arriva sano e salvo. Sì, la tragedia del piccolo Carlo ha colpito tutto il paese. Mentre proseguono le ricerche nel territorio circostante, per ora senza alcun risultato, dal nostro inviato Giorgio Pollini. Il paese, tutti si fidano di te, devi essere i miei occhi e i miei orecchi. Francesca è come un bambino e non farebbe male ad una mosca, no? L'ho fatto io quegli uomini, quelli grandi invece sono la mia mamma e il mio papà. È tutta una messa in scena, il riscatto e il rapimento. Non c'è niente di vero, è solo una questione di soldi. Stiamo affondando. Nessuno ha sentito gridare, nessuno ha visto nulla. È andato tutto esattamente come doveva andare, forse anche troppo. Qualunque cosa la devo sapere prima io. È chiaro? Non mi serve che mi aiuti. Che cos'è un eroe? Un eroe è qualcuno che serve per sentirci migliori. Qualcuno a cui chiedere un sacrificio. Non è stato lui! Quando noi non abbiamo più il coraggio di rischiare. Io sono l'eroe. Io sono l'eroe. Io sono l'eroe. Io sono l'eroe. Io sono l'eroe.